E' di 280 morti e centinaia di feriti il bilancio provvisore di una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 a circa 46 chilometri dalla città di Khost, nel sud-est dell'Afghanistan, ad una profondità di 51 chilometri. La maggior parte delle vittime si registrano nei distretti di Gaiana e Barmal, nella provincia di Paktika. Il sisma è stato avvertito anche nel vicino Pakistan. Il Papa, al termine dell'udienza generale, ha espresso vicinanza ai feriti e a quanti sono stati colpiti dal sisma, auspicando che l'aiuto di tutti possa alleviare le sofferenze.